C'era la droga pesante, come si diceva, con Fabrizio? C'era gente che si divertiva, ballava, c'era un'atmosfera bellissima. Stiamo cercando di mettere un caso di una cosa successa gravissima, che è quella di questa ragazza qui, in un contesto di una festa sociale di persone che erano insieme per divertirsi in un momento storico dove i club sono chiusi e la gente cerca comunque dei luoghi per ritrovarsi. È da condannare il fatto accaduto. Sono il primo a condannare ciò che è accaduto. Le ho fatto una domanda diversa, Leali. Sì, mi dica. Io posso andare a una festa, ballare, eccetera. Le ho fatto una domanda diversa. Corona dice, lì c'è stato uno stupro, ma poi intorno c'era tutto un altro mondo fatto di droga pesante, di chetamina, di cocaina e di altra roba che è quella che molto spesso il nostro mondo assolve, che noi sappiamo si usa, noi non assolviamo. Però le ho chiesto, lei l'ha vista questa droga, l'ha vista questa situazione? Perché poi, entrando nei dettagli, ci sono alcune ragazze addirittura che dicevano, io ho letto l'ordinanza, ho letto le carte, dicevano che addirittura lei aveva avuto che fare, addirittura passava in giro con i piatti. È vero o non è vero? Questo non è assolutamente vero. Ricordo che in sala comunque qualche persona consumava degli stupefacenti. Lei quindi non ha detto, come ho letto, che ha nascosto un piatto pieno di droga in un armadio perché non la usassero tutti? No, no, assolutamente. Quindi lei smentisce quello che abbiamo letto sui giornali. Fabrizio, poi Oana. Sì.